Non ti lasceremo ma, alle, alle! Un'occasione per la Lazio, due occasioni per il Milan, primo tempo che ha visto il Milan ben contenuto dalla difesa e dal centrocampo della Lazio, poi è cresciuto Reinders, Adli ha giocato una grande partita, peccato che abbia perso Loftus Cic per infortunio muscolare, poi è cresciuto Reinders e sono cresciuti, è cresciuto sempre Adli, è entrato Musa che è entrato benissimo, viene avanti ancora Musa, attenzione, per Chuck Boese, 1-0 per il Milan, gol di Pulisic, attenzione, va, 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 deve imparare Chuck, che non si possono scartare tre uomini, attenzione, siamo al minuto 82, i ragazzi vincono 1-0, e va, attenzione, vediamo la Lazio di in avanti con lancio lungo, molto bello, vediamo se riesce a tenerla, sì, attenzione, e c'è l'ammunizione Aleao, attenzione che siamo già alla terza o quarta e allora c'è un calcio di punizione per la Lazio, secondo tempo è cresciuto, è cresciuto Reinders, è cresciuto Musa, è entrato molto bene quando è uscito nel primo tempo l'Occus Cic, poi Adli ha dato tre o quattro palloni, splendidi Musa, di Zauberfjöte, il flauto magico, di Zauberfjöte, e adesso viene avanti la Lazio, vediamo, mancano intanto ancora sette minuti di recupero, la Lazio ha messo Pedro e il mobile, ma attenzione, Florenzi è entrato, perde la palla, è entrato benissimo, bravo Alessandro, bravo il mio signor della casa, vediamo, la partita è equilibrata adesso, pericolosa come un filo sottile sopra un gioco di rasoio, ora cerca di andare, c'è la Facciuk che continua a lottare ma ha vinto il duello, il giocatore della Lazio, il numero 23, l'Isai, viene avanti ancora e ancora recupera la palla, attenzione, Pallone dentro, Ficcaio, Ficcaio controllo, Viene avanti ancora la formazione di Sarri, quando mancano sei minuti alla fine, ragazzi vincono da zero, azione bellissima, Adli, Leao, Leao in mezzo, tiro al volo di Pulisic, bellissimo, al minuto 58, adesso il Milan cerca di pressare alto, la Lazio però inizia a venire avanti, attenzione, Pallone dentro, Ficcaio, Ficcaio controlla e Ficcaio spazia via, grande partita di Joyce, vediamo, ancora rimessa laterale, partita importante, attenzione, viene avanti ancora la formazione di Sarri, Milan si è abbassato, c'è Cicu e Ziocaforo adesso davanti, Viene leao, attenzione, punta ancora Pedro, Pallone dentro, come libero questo, come libero questo qua, speriamo che, attenzione, vediamo potrebbe tirare tiro murato, attenzione, ritiro murato, e poi c'è il grande intervento, è il nostro, grandissimo, Alessandro Florenzi, strepitoso, strepitoso, a salvare questa occasione, con Rovella, è riuscito a mettere in piedi, Alessandro Florenzi, Monsignor della Casa, Allora, vediamo, il tempo passa lento, come olio pesante da un alfada, ha munito un megnano, perché ha perso tempo, il pallone dentro per Pichai, non manca ancora tanto, e allora c'è il cuono, quando il cuo ha aumentato i decibel è venuto il cuono, attenzione, Milan non riesce a tenere la palla alta, vediamo, se riuscirà magari a sfruttare un contropiede nel finale, è venuto 86, lento, dio del tempo, Kronos, vediamo, viene avanti ancora, bella parita di Rovella, Immobile, è entrato da poco, pallone dentro in posizione regolare, attenzione alla Lazio, ancora la Lazio che riesce a sfruttare tiro, fuori, 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 il silabo di felicità, non passa mai però, 87, non riesci a fare, di lana, ma bisogna tenerla, adesso vediamo, il lancio lungo, il tumore, no scusate, ancora Mignan, Mignan devi fare in fretta, ti ha già dato un giallettino, pallone laterale per Teo, pallone dentro, può andare ancora Povega, Povega che dà Leao, punta Leao, viene avanti Rafa, vai, Leao, 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 leao Le ha messa l'autoforte, si è aperto il parco dei divertimenti, le ha un ente, le ha un ente, le ha un ente, le ha un ente, il rionco si è aperto il parco dei divertimenti, le ha un ente. Occhiafort! 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 Due gol in due partite, si è aperto le Hauland, le ha un ente, le ha un ente, quando le ha un ente apre le sue giostre, il suo parco di divertimenti, noi prendiamo lo zucchero filato, le ha un ente. E sono 2 a 0 al minuto 89, grande prestazione, una prestazione autorevole, una prestazione matura, matura dei ragazzi, matura. Un mercato splendido, un mercato splendido, Musa, Rocafort, Unis, un mercato splendido, diciamolo, diciamolo. E poi Leao, ha fatto bene, era stanco Leao, ma poi se n'è andato, quando ha messo il rionco a fuori a portavolta. E allora vediamo, 2 a 0, la vittoria della maturità ancora. E allora viene avanti, quando manca un minuto alla fine, delirio. E ve l'ho detto prima dei gol, si è aperto le Hauland. Grande storia, grande prestazione. E' cresciuto Reinders in maniera esponenziale. E' stato uno splendore. Allora vediamo. Ha tornato la fata ancora più. Ciuc, vai Ciuc. E abbiamo anche qualche dubbio. Rimessa laterale. A favore del Milan, 2 a 0. Bello, bello, bello. Contrata la palla, che partita Musa. Ancora Reinders, 2 volte, attenzione Rovelli. Pallone dentro, attenzione Immobile. Lapo pega, bravo. Attenzione che viene a mettere la Lazio. Viene avanti, attenzione. Contrata, ancora. Viene avanti ancora la Lazio. Quattro. Quattro. Quattro minuti alla fine. Grande partita della maturità. Hanno sofferto mancanza di spazi e poi è venuto fuori un grandissimo minuto. Un grandissimo minuto. Attenzione. Un mercato che ci ha regalato grandi giocatori. Ma non è finita. Quattro minuti alla fine. Viene avanti ancora la Lazio. Attenzione. Pallone laterale. Ancora la Lazio. Viene avanti il pallone. Attenzione libero Rovella. Non tira ancora. Attenzione. E' controllata la palla tra bocchiera. Viene avanti ancora. La Lazio. Che preme. Tre. Eh, ancora tre e mezzo. Manca ancora 200 secondi. Abbiamo, attenzione Immobile. E recupera la palla Reinders. Che appoggia dentro per Povega. 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 Pallone. Attenzione. Viene avanti ancora. Ah, con calma Massa. Il pallone. Credo che dia il pallone adesso al Milan. Grande intervento al momento decisivo di Alessandro Florenzi. Sul 1 a 0. Ecco, vediamo. Eh, ho visto. Si è aperto i cancelli. Lea Olen. Aperto i cancelli. Lea Olen. Aperto i cancelli. E' venuto il gol. Vediamo. Maio Cazzo. Vediamo. Vediamo adesso. La canzone. La Pallone Matteo. E' la pubblica. La Pallone Matteo. Controlla la palla altura. Mori. Subito. Subito. l'Almagnan, Florenzi, lancio lungo con il suo solito piede, non lo può andare, lancio troppo lungo per Rocaforo, due gol in due partite, eh sì, non ci credevo io, e ha provato il passaggio al volo Florenzi, in avanti ancora la Lazio, attenzione, cambio di gioco, in in avanti ancora la formazione di Sarri, quanto mancano due? Due minuti, attenzione, salta ancora Tomori strepitoso, ancora la Lazio, ancora Kier. Alza il tuo giro, però ormai era fuori gioco, un'ora che era fuori gioco, è altissimo un'ora del gioco, un'ora, vediamo adesso, vai, manca un minuto, un minuto, un minuto e mezzo, l'ora, due a zero, maturità, ha presciuto, quando crescono le qualità dei giocatori, dei perdedersi e altri, la Lazio si è messa a giocare solo dopo il uno a zero, bellissima prestazione, Milan, signori, media del due e mezzo, quante cose si sono dette in queste settimane, e adesso abbiamo 18 punti, media del 2 e mezzo che ha sbagliato una parità, su 8, su 8, vediamo se controlla se è offside o no, a me sembrava nero però, via via la letto, via, lancio lungo, vediamo, lancio lungo, vediamo chi va, controllata la palla da Ciuc, è una grande palla, vai Ciuc, vieni avanti, corner, bravo Ciucco Ezio, bravo Cianca, allora vediamo il corner, attenzione, lancio lungo, pallone dentro, la palla, accusa, potrebbe dare indietro, no, oh che bel pallone, ancora lì la palla, ecco ancora dentro, Ciuc, Leao che gioca sulla fascia di destra, ancora pallone dentro, potrebbe dare qualità, un corner, spettacolo, spettacolo, ed è finita, trionco, trionco, un spettacolo, città e chiun stringe volentando, non faccio, con lo sc e di eccola, città e di eccola, biancana, conv keine. Cap22, vieni avanti, ch hosp��세요, venerdame.